Giuliano Saccaggi, editor sportivo da Juventus Domo, Juventus Domo che si presenta agli ultimi 180 minuti, ancora un svantaggio di 3 punti, da novembre a oggi, dopo quel mese terribile, è la squadra che ha fatto più punti di tutti, è più un rammarico quel mese di novembre o la soddisfazione che la squadra finalmente è uscita come l'avevate costruita? Tutte e due, tutte e due Fabri, tutte e due perché comunque il mese di novembre per noi è stato un peccato aver perso tutti quei punti come ben sapete, soprattutto qua in casa e poi chiaramente dopo quel mese lì abbiamo incranato, abbiamo fatto quadrato con il mister, con tutto lo spogliatoio, siamo forse una delle uniche squadre che ha mantenuto la rosa che eravamo partiti praticamente ad agosto Scusa se ti interrompo, è anche il mister, nelle prime 5 dicembre c'è stato uno sconquasso totale, il primo che doveva saltare era Castelnuovo, è ancora qui Infatti anche il mister che per tutti sicuramente è un miracolo che è ancora qua, non per me comunque e quindi al di là delle battute, poi c'è il rammarico solo di quel mese, poi per il resto no, noi eravamo convinti già dall'inizio sia io che il mister della squadra delle potenzialità che potevano avere Siamo contenti per questo girone di ritorno soprattutto, per questa serie positiva, è chiaro che un occhio ai tre punti li guardiamo, però ormai è tutto in mano a loro, quindi noi dobbiamo fare il meglio e basta Una cosa che mi fa sorridere, credo anche te, e che non mi sorprende perché il calcio è anche questo, fino a due mesi fa, soprattutto i nuovi acquisti fischiati, criticati, etichettati con parole non simpatiche C'è stata una partita che effettivamente era uscito di tutto, adesso escono tra gli applausi, il calcio è anche questo, pazienza, non dovrebbe essere così ma il calcio è anche questo Sì, pazienza insomma, non sono proprio della tua idea, pazienza non tanto Scusa, il mio era ironico, non ci si può fare nulla, la gente è così, quando senti di ho pagato il biglietto, faccio, purtroppo cultura calcistica è questa Sì, su questo hai perfettamente ragione, è un rammarico perché io sono convinto, ma veramente convinto che se comunque nei momenti proprio di difficoltà secondo me si stava un po' più tutti vicini, probabilmente anche uno, due o tre punti potevano anche darceli questo stadio e questa tifoseria Non è stato così, non è stato così, pace, amen, cioè noi andiamo avanti sempre perché l'obiettivo è quello di arrivare in eccellenza o per la strada prioritaria o per le secondarie Anche perché è il secondo anno, come diceva giustamente, prima Castelnuovo si arriva magari in una maniera, in una situazione diversa ma è il secondo anno consecutivo che la Juve Domo va ai playoff e per quanto possa essere scontato ad agosto perché ad agosto sono tutti bravi quando si fanno delle belle campagne acquisti, però è sempre il campo che dà la ragione due anni ai playoff Due anni ai playoff giustamente ed è merito principalmente secondo me di Mr. Castelnuovo perché comunque l'anno scorso contro tutto lo scetticismo è riuscito a portare una squadra a suo dire poi forse già come anticipato da lui molto più debole di questa in un campionato chiaramente un pochettino diverso, forse non c'erano le qualità che ci sono quest'anno in promozione però era riuscito a portare da quinta classifica, era riuscito ad arrivare molto avanti nei playoff quest'anno con una squadra totalmente diversa, come giustamente aveva detto e si vede siamo riusciti ad arrivare comunque al secondo posto che ormai dovrebbe essere anche matematico perché avere sei punti in due partite con gli sconti diretti a nostro favore dovrebbe essere matematico al secondo posto quindi siamo riusciti ad ottenere il secondo posto ai playoff e questo è sicuramente un ottimo risultato che principalmente per me va diviso con il mister e con lo spogliatoio, con i giocatori Ci siamo visti all'inizio stagione, ci vediamo adesso che come dicevi tu è matematico il secondo posto ai playoff quindi deve succedere ancora qualcosa di positivo per rivederci per un'altra intervista Sì, speriamo che fra due settimane, fra due domeniche siamo qua a fare l'ultima intervista Bocca al lupo Grazie Creppy